Moltissima ansia, infatti non ho chiuso occhio stanotte. Dopo ho passato insieme ai miei compagni di scuola qui, abbiamo ballato, abbiamo riso, abbiamo festeggiato, abbiamo ricordato quelli che sono stati cinque anni. Trascorsa la notte prima degli esami, la maturità 2019 ha preso il via, come era tradizione, con il tema di italiano, prima prova da sostenere per gli oltre 40.000 studenti pugliesi. Sette sono le tracce che i candidati hanno avuto a disposizione. L'allegria di Giuseppe Ungaretti ed il giorno della civetta di Leonardo Sciascia come testi da analizzare. La concreta applicazione delle innovazioni tecnologiche e l'eredità del Novecento come temi da sviluppare in saggio breve. Una riflessione sull'antimafia, partendo dal ricordo del generale Carlo Alberto Dallachiesa, ed una riflessione sul rapporto tra sport e società, basata sulla figura del ciclista Gino Bartali, come tematiche di attualità da elaborare. Ci hanno sorpreso, perché almeno io mi aspettavo più tracce quotidiane, cioè nel senso bio, quindi ambiente, quindi pur l'immigrazione. Mentre io ho scelto la traccia numero C2, che era appunto lo sport, società e appunto la storia. Però sono state abbastanza positive come tracce. Di attualità. Quella dell'arte e del patrimonio storico, culturale e artistico. Ho scelto la tipologia A2, quindi sulle legalità, la mafia e ho fatto vari collegamenti nell'Ottocento e nel mondo di oggi. Archiviato il tema di italiano, i maturandi si cimenteranno con le novità degli esami 2019. La seconda prova sarà diversa in base all'indirizzo di studi e prevederà per la prima volta due materie con le quali confrontarsi. Latino e greco al classico, fisica e matematica allo scientifico. Non ci sarà, invece, la terza prova eliminata dal Ministero dell'Istruzione. È una tragedia la fisica che è applicata per noi, perché matematica e fisica insieme è difficile da mettere insieme come due materie. Anche se non c'è la terza prova è abbastanza difficile come cosa. Diciamo, non siamo pronti al 100%, però la affronteremo nel miglior modo possibile. Novità anche per lo sviluppo dell'orale, che si svolgerà come un vero e proprio quiz. I maturandi non dovranno più presentarsi con una tesina già pronta come fonte di ispirazione per le prime domande, ma dovranno pescare una busta con dentro l'argomento o i quesiti con cui rompere il ghiaccio. A livello di orale è stata una scelta, possiamo dire, decisiva, perché comunque si va a valutare l'alunno su un punto di vista totalitario, complessivo. Comunque sarà più difficile rispetto agli altri anni, perché non avremo un punto di partenza, ma bisognerà studiare completamente tutto il programma. Almeno a me spaventa, perché questa idea di lasciare tutto al destino, quindi alla busta che dobbiamo pescare, e mette un po' in soggezione e d'ansia, però speriamo bene, anche perché sarà vicino.